ciao io sono carlo e queste foto games questa mattina mi trovo sul lungomare di fano come puoi vedere l'aria è frizzantina ma il sole riscalda che un piacere detto questo mi metto a favore di luce per non apparire nero volevo fare questo breve video solo per aggiornarti su alcune novità che voglio portare avanti ebbene quali sono le novità dopo il canale youtube dopo la pagina facebook dopo il profilo instagram sta nascendo anche un gruppo su facebook appunto che prende il nome dal progetto che sono avanti che è proprio futo games in questo gruppo potrei trovare aggiornamenti potrei trovare live potrei trovare gameplay ma potrei trovare soprattutto quello che penso che sarà il fulcro del progetto e cioè delle live dove chiacchiereremo con chi porta avanti questa passione da più tempo da chi fa live da chi fa gameplay da chi fa tutorial ma soprattutto anche da chi giochi li crea e li realizza questo per cercare di fornire a chi ci guarda quante più informazioni possibili in merito a questo mondo meraviglioso e soprattutto a me per cercare di imparare quanto più possibile perché non si smetterà mai di imparare detto questo che si vuole buttare in acqua ti pulisce babbo io ti saluto ti abbraccio tantissimo e ti do appuntamento nei prossimi video ciao